Aspettiamo da un'ora senza nessuna informazione in merito alle partenze e al trasferimento da Orioles aereo a Malpensa, è una vergogna. È incredibile perché come sempre la disinformazione è l'italiana. Sono sceso dal pullman e mi hanno mandato l'app dicendo che il volo era cancellato. Lì c'è il delirio, adesso torno a casa. Il volo prima era in ritardo e ci hanno segnato fino alle 11 in ritardo se non sbaglio, poi l'hanno cancellato. Abbiamo dovuto aspettare le valigie che ci hanno messo un po' da arrivare. Siamo un po' tutti incasinati perché non sappiamo... ce l'hanno dirottato a Malpensa per le due e mezza, quindi siamo un po' di corsa per andare a prenderlo. Informiamo i signori passeggeri dei voli cancellati. Che possono effettuare la riproduzione del proprio volo online tramite il sito della compagnia? Dalle sette, sette e mezza. Noi il volo c'eravamo alle due e mezza e è stato cancellato. Succede, però diciamo che potevamo andare meglio. Si partirà domani, come al solito. Un giorno in più, un giorno in meno, un giro si fa. Un giorno in meno, un giorno in meno, un giorno in meno. Un giorno in meno, un giorno in meno, un giorno in meno. Un giorno in meno, un giorno in meno, un giorno in meno. Un giorno in meno, un giorno in meno, un giorno in meno. Grazie a tutti